buonasera a tutti sono luigio naraku se preferite bentornati su seven the dressing grand cross con il suo arrivo finalmente ci siamo finalmente ci siamo è arrivato gother questo è un must pull quindi dobbiamo trovarlo 700 gemme da parte salvo sfighe dovremmo averlo però non il settecento abbiamo la pubblicità facciamo anche la singola per vedere com'è la fortuna iniziale vediamo come partiamo una pozza allora cosa voglio tecnicamente mi serve solo gother più tante oro per prendermi pendant per portarmi subito gother alto quindi iniziamo e vediamo come va prima multi dovrebbe essere shaft si è shaftata però l'unica sr che mi manca e tre coin ok seconda trovarla in un giro sarebbe la cosa perfetta è shaftata mi sa potrebbe non essere shaftata vediamo come va oro probabilmente shaft infatti però altri quattro coin andiamo alla terza ok ok qua abbiamo almeno un rainbow vediamo un pochino un pochino e se c'è anche un fake out vediamo a elisabok ce l'ho già coin una marea di coin quindi abbiamo anche un pendant per gother ottimo andiamo vorrei stare sopra le 500 gemme se è possibile ancora ok come prima spada spezzata beh no shaft si riconosce ragazzi quando è shaft e quando no se Meliodas perde è perennemente shaft ancora ok nulla vent'ordici oro ancora ok pareggio pareggio vent'ordici oro ok garantito ok marchio c'è l'azzurro vabbè qua è totalmente vinta full counter e vinciamo la battaglia ok ok due o due coin uno tra Galand e Gotor dovremmo averlo male che non trovi tutti e due di seguito Galand Slader ok e Galand lo abbiamo a casa eh pareggio cielo azzurro rock spada normale perso vabbè dato che ci siamo ragazzi vediamo di finire il secondo giro tanto le gemme si rifanno prima che esca escano rosso cielo azzurro caricamento pareggio o rainbow vittoria quindi di sicuro SSR vediamo quante una con tanti ore da un altro Galand da un altro Galand ok SSR vediamo quale Galand mi tengo il coin non è uno di quei pg di cui voglio aumentare la special solo una dovrebbe essere una foto un foto non è una foto che si ravi non è uno di che non è uno di quello non è uno di cui non è uno di cui eccolo qua trovato due multi più di quelle che mi sarei fatto sinceramente quanto siamo due multi più di quelle che avrei fatto non mi lamento non mi lamento gother trovato e anche un pochino di altre cose allora 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 finalmente gerico adesso facciamo un po di cosine prima di chiudere solo due scatole ancora max al vediamo un pochino quanta roba riesco a comprare più che altro perché devo portarmi su un po di sr gerico te sei maxata lo sento il potenziamento a gerico lo sento che non trovate quattro e si naturalmente questo vuol dire che avrò meno che avrò meno pendenti comprabili però chi se ne frega sinceramente quasi maxato ghila della cosa più importante ora come ora il thunder era già maxato arthur blu non ne ho trovato nessuno sfiga te eri già maxata te eri già maxata te eri già maxata no ti maxo adesso allora ok ok ottimo poi simone ha già maxato ghila land sta bene dove sta te come sei messo ma in realtà che in realtà non cambia molto cioè no in realtà cioè lui se per essere un s2 la special non è che mi interessa più di tanto con chi l'incava lui però con king con skinny king l'incava direi che ci siamo perché di chi uso io non c'ho altro quindi negozio negozio monete è arrivato ban con gli oro non ti mi piaccia un po' di così ok 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 mi rifullo di 40 pozze no da 9 magari no 40 avanza ne avanza ah no 52 prendiamoci un cinquantino no sbagliato mi interessa missione dov'è armadio e si probabilmente ve lo dico per nel demone a sto punto aspetterò che esca quei coin è andato bene il farming stanotte noto ok perfetto ok 60 fatto purtroppo mi mancano il resto c'ho tutto quindi adesso dovrò un attimo il modo di farmarmelo equipaggiamento vediamo un pochino come siamo messi si non penso benissimo perché gli equip life non li ho messi benissimo solo 70 mila infatti devo un attimino portarlo su che poi ti hai messo anche abbastanza bene oddio relativamente a 2.1 a 2.1 adesso adesso pian pianino me lo inizierò a portare un attimo su devo metterci un life ssr ci sta poco da fare ci facciamo insieme queste poi chiudiamo due molti di troppo però ho trovato abbastanza devo vedere quanti coin rainbow dovrei averne 12 no meglio ah che bei ricordi gother perché in realtà potrei anche scambiarmi gli altri oro per per altri due tanto non è che gli oro che mi siano rimasti siano utili a qualcosa alla fine fine quindi per cui alla fine fine oh un bello oro io me lo porto subito al 65 poi devo soltanto farmi un farming di 3 per portarlo a 70 ci starebbe ok abilità attivata sì direi che ci sta come idea a base grazie allora ne ho 35 poi no quale serve questo è l'unico vero vantaggio che ha chi pullata questo è l'unico vero vantaggio che ha chi pullata tanto da chi pulla poco sinceramente il fatto che chi pulla tanto può con molta più facilità portarsi gli ssr alti per questo dovrò un attimino aspettare devo mettermi in farming le pozze beh quelle me le farmo subito ok abbiamo chiuso quindi con un bel gother e quanti coin rainbow? io non ho visto io non ho visto io non ho visto io non ho visto 12 coin rainbow not bad not bad vuol dire che probabilmente si adesso vedo di tornare a 500 gemme se poi supero le 500 qualche multi su meliodas e elbram le faccio altrimenti va bene anche così qua abbiamo prezzo a poco finito quelle oro potrei prendermene un altro quelle argentine quelle qua ne ho ancora abbastanza non è un problema amicizia vedo di comprarmi uno di questi oggi dov'è? dove sono? questo è qua adesso in seguito ci vediamo al prossimo video